Musica Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di Ora Tg. Rapinavano tabaccherie picchiando i titolari. A bel passo sono stati arrestati due giovani che agivano in modo davvero spregiudicato. Vediamo il servizio. Disinvolti ed accaniti, pistola in mano e botte da orbi a chiunque fosse dietro il bancone, anziani e persone indifese. Così giovani, poco più che ventenni e così spietati. Carmelo Miano e Stefano Amore, entrambi di Motta a Santa Anastasia, sono finiti in manette. Si sarebbero macchiati di una serie di rapine violente. Due gli episodi accertati dai carabinieri grazie alle immagini della videosorveglianza e entrambi i colpi sono stati messi a segno nel centro di Belpasso in due tabaccherie a distanza di poche ore, alcune settimane fa. Il video, ora diffuso dai carabinieri, mostra i due rapinatori all'opera. Non solo minacce ed intimidazioni per ottenere il bottino, le scene sono di una furia e violenza inaudita. Queste si riferiscono al primo episodio, quando i due avrebbero fatto irruzione all'orario di apertura nella tabaccheria. Puntandogli la pistola avrebbero intimato al padre del titolare di consegnare il denaro in cassa. Di fronte al rifiuto, i due lo avrebbero colpito con un calcio al bacino e con schiaffi al volto e alla testa, riuscendo a portare via solo alcuni pacchetti di sigarette. Nel secondo caso, volto parzialmente coperto, esploso un colpo di pistola in aria, picchiano la proprietaria, ultra 65enne, fino a farle perdere conoscenza. 500 euro il bottino. I due si trovano adesso nel carcere di Piazza Lanza. Al momento della cattura, in casa di Miano, oltre alle pistole utilizzate per le rapine, è stato ritrovato e sequestrato un chilo di marijuana. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Paternò, dove domenica scorsa si è registrato l'omicidio-suicidio. Ci saranno funerali separati per le vittime di questa tragedia familiare. Unica cerimonia domani per la mamma, Vincenza, i piccoli Gabriele e Francesco Daniele. Vediamo. L'ultimo saluto a Cinzia Palumbo e di suoi due bimbi, Daniele e Gabriele, assassinati dal padre mentre dormivano, sarà dato domani pomeriggio nella chiesa di Santa Barbara. Le esegue del 34enne Gianfranco Fallica, artefice del familicidio di Via Libertà Paternò, che alla fine dell'orrore si è sparato alla tempia, con la stessa pistola usata contro moglie e figli, sangue del suo sangue, saranno celebrate a parte. Il giorno dopo, in un'altra chiesa, da un altro sacerdote. Domani sarà l'ulto cittadino a Paternò, in occasione dei funerali delle tre vittime e la donna di figli. La decisione era già stata preannunciata ai nostri microfoni del sindaco Nino Naso, sconvolto dall'inspiegabile tragedia. Un provvedimento assunto, si legge nell'ordinanza, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica scomparsa. Sarà anche esposta la bandiera a mezz'asta in tutti gli edifici comunali. Il primo cittadino ha invitato anche le organizzazioni sociali, culturali, di commercianti a partecipare al lutto, manifestare vicinanza con iniziative autonome e ad osservare, domani a mezzogiorno, un minuto di silenzio negli uffici comunali e nelle scuole. I funerali di Fallica, inizialmente previsti per venerdì mattina, sono stati posticipati a sabato pomeriggio. Il rinvio di 24 ore sarebbe dipeso dallo slittamento dell'autopesia sul corpo dell'uomo. Per i funerali si è atteso che fosse completato l'esame autoptico sul corpo di Cinzia Palumbo all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro. L'autopesia sui corpicini dei due bambini è stata invece eseguita al Vittorio Emanuele. Per l'esito e per cercare risposte alle tante domande ci sarà tutto il tempo. Adesso è soltanto il momento dello strazio silenzioso dei familiari. Un cocktail di farmaci che avrebbe potuto ucciderle, eppure la polizia l'ha salvato a una turista francese nei giorni scorsi a Catania. Arresti certamente, ma anche interventi non di routine portati a compimento sul filo del rasoio pur di salvare la vita altrui. La polizia di Catania balza ancora una volta agli onori della cronaca per un gesto di grande altruismo e abnegazione. Per avere strappato alla morte una turista francese che baricatasi in una delle stanze di un B&B catanese aveva manifestato propositi di suicidio. La donna aveva sottratto ad un'amica con la quale era in vacanza a Catania un blister con 28 pillole di morfine e alcuni psicofarmaci e si era rinchiusa in stanza, scattato l'allarme. Poco dopo sono arrivati due agenti delle motovolanti che con mezzi di fortuna hanno tentato di scardinare la serratura sino ad entrare in stanza, appena in tempo per strappare dalla bocca della turista francese una delle pillole che non era riuscita a declutire perché è già svenuta. Uno dei due ha cercato di rianimarla sino all'arrivo del 118. La donna è stata trasportata al Garibaldi in codice rosso, ma i medici sono riusciti a tenerla in vita. Adesso, con una missiva indirizzata al questore di Catania Alberto Francini, il ringraziamento per gli agenti intervenuti con professionalità e tanto umanità. Abbiamo sentito stamani, nel giorno dell'indomani della votazione del dissesto, il sindaco che ci parla appunto degli scenari futuri per la città di Catania. Il dato è tratto. Il Consiglio Comunale di Catania nella seduta di ieri sera ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente di Palazzo degli Elefanti. Con 27 voti favorevoli e due estenuti, il civico consesso ha dichiarato l'inevitabile dissesto economico finanziario. A margine il sindaco, Salvo Pogliese, ha ricostruito i passaggi che hanno portato al default dichiarato dall'Assemblea cittadina. A questa conclusione si è arrivati anche dopo che è stato respinto il ricorso in appello presentato dall'attuale amministrazione comunale. Si volta pagina, si conclude una fase della storia della nostra città con l'epilogo più triste al quale avremmo preferito mai assistere, ma voltiamo pagina. Bisogna rilanciare la nostra città, Catania ha eccezionali potenzialità. La fase precedente verrà gestita da un organismo straordinario di liquidazione individuato al Ministero dell'Interno e di Intesa con la Prefettura che gestirà la massa debitoria nel tentativo di trovare un'intesa con i creditori. L'attività del presente e del futuro verrà gestita l'amministrazione comunale eletta il 10 giugno del 2018. Abbiamo lottato strenuamente nel tentativo di evitare il dissesto assumendoci anche forti responsabilità Il 7 novembre le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno sancito la parola fine rispetto a questo tentativo strenuo, coraggioso. Bisogna voltare pagina. Avremmo preferito non vivere questa fase nella storia della nostra città ma abbiamo tutte le forze, l'entusiasmo per rilanciare la nostra città. Catania ha risposto alla grande rispetto ad un appello che noi abbiamo lanciato a tutte le forze imperitoriali della nostra città nel tentativo di non spegnere le luci nelle festività natalizie assumendo anche una valenza simbolica abbiamo registrato grandissime attestazioni di vicinanza e di solidarietà concrete attraverso un programma molto articolato che da qui a breve presenteremo alla stampa. Ecco quindi perché io credo che noi possiamo rilanciare la nostra città che ha eccezionali potenzialità che è invidiata da tutti nel momento in cui per la prima volta la conoscono e quindi sono un inguaribile ottimista continuo ad esserlo anche il giorno dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale che ha dimostrato per l'ennesima volta un grande senso di responsabilità attraverso per esempio l'approvazione del rendiconto 2017 in tre giorni da quando è stato fatto pervenire il parè del Collegio Revisori attraverso l'approvazione delle misure correttive nel settembre del 2018 attraverso tutti gli atti propedeutici per dare una boccata d'ossigeno nel caso specifico a 10.000 famiglie della nostra città ieri si è consumato l'ultimo atto di una storia che abbiamo archiviato definitivamente. A 49 anni dall'ultima approvazione dello strumento urbanistico oggi attorno a un tavolo urbanisti e pianificatori e sempre urbani per parlare di quello che sarà il nuovo PRG della città di Catania. Un confronto importante propedeutico alla presentazione delle linee guida del nuovo piano regolatore generale che l'amministrazione pogliese intende deliberare entro poche settimane perché sia approvato entro il 2020. Il primo cittadino catanese ha ribadito anche questa mattina nel corso di un convegno che si è tenuto al Palazzo della Cultura il percorso che l'amministrazione intende seguire per accelerare le procedure di stesura del nuovo piano regolatore generale atteso dalla città di Catania da ormai 49 anni. Oggi il responsabile della direzione urbanistica ma anche i dirigenti comunali hanno elencato le attività svolte in materia di sviluppo urbanistico con particolare riferimento alla pianificazione alla luce dell'elaborazione delle linee guida della revisione del piano regolatore che la Giunta Comunale intende fornire a breve. L'incontro moderato dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Professor Paolo Lagreca è servito per determinare alcuni paletti circa il nuovo piano regolatore che dovrà soprattutto essere votato ad una migliore mobilità cittadina ad esempio attraverso l'ottimizzazione del sistema metropolitano ferroviario ad una costante e reale sostenibilità ambientale all'azione di risanamento del patrimonio urbanistico e di tutela antisismica partendo ma integrando quelle che furono le proposte del piano regolatore avanzate dalla Giunta Stancanelli e che poi, ha detto il Sindaco sono state dimenticate dalla successiva amministrazione bianco ma non basta perché l'attuale amministrazione cittadina vuole servirsi di tutti gli strumenti utili per adeguare il piano regolatore alle esigenze reali della città e dei suoi cittadini attraverso un confronto con le municipalità, le categorie datoriali le associazioni, le categorie professionali Le linee guida ovviamente è un documento che verrà approvato dal Consiglio Comunale quindi le linee guida verranno approvate in sede di Consiglio noi sotto il profilo tecnico cercheremo di ascoltare quanto più possibile la città per cercare di comprendere quali sono gli indirizzi più opportuni e soprattutto gli indirizzi che più i cittadini vorranno per lo sviluppo del prossimo futuro e del prossimo ventennio Si parla principalmente di mobilità tutela dell'ambiente interconnessione con i vari sistemi di trasporto Sotto il profilo tecnico è questa la scommessa chiaro che io non avendo una figura politica non posso individuare quali possono essere i futuri della città in senso stretto però sotto il profilo della tecnica e dell'attività da svolgere è proprio questa la scommessa cioè cercare di avere una città vivibile con delle infrastrutture sostenibili e soprattutto cercare di smussare tutte quelle criticità che ancora oggi purtroppo ci ritroviamo all'interno del sistema noi li chiamiamo tecnicamente dei sistemi urbani territoriali un enorme lavoro una enorme risorsa già quella svolta da Stancanelli come si anche terranno pure conto di tutti gli altri studi fatti ma anche dai geologi dagli avvocati dai commercialisti e perché no anche da tutti quegli urbanisti che fanno parte di quelle scienze per esempio sociali che a volte lavorano in maniera così nascosta ma che in realtà darebbero un grosso contributo allo sviluppo della città Rimaniamo in città alla luce di quanto avvenuto a Strasburgo e in Francia la questura di Catania ha rafforzato su indicazione del Ministero dell'Interno i controlli antiterrorismo dei cosiddetti obiettivi sensibili della città e della provincia etnea con un'ordinanza il cui contenuto è secretato per ovvie ragioni di sicurezza il questore Francini ha disposto il potenziamento dei controlli nei luoghi particolarmente affollati il servizio d'ordine sarà eseguito con il personale in servizio e con il supporto anche delle altre forze dell'ordine del nucleo specializzato antiterrorismo dei carabinieri api alliquota di primo intervento controlli che saranno eseguiti anche in occasione delle festività natalizie di fine anno e poi ancora un 66enne ex funzionario dell'ispettorato del lavoro di Catania in pensione è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa avrebbe secondo l'accusa perseguitato e vessato la moglie perché sospettava avesse una inesistente relazione extraconiugale dopo circa 40 anni di matrimonio per questo era arrivato a sequestrarle il cellulare e a ingiuriarla pesantemente al culmine di un violento litigio la donna era stata cacciata di casa e temendo per la sua incolumità fisica si era trasferita in una villetta in un paese etneo acquistata in comunione dei beni villetta che è stata distrutta da un incendio che gli investigatori ritengono sia stato l'uomo da piccare dopo l'arresto l'uomo è finito in carcere andiamo adesso in provincia ci spostiamo nella frazione accese di Santa Maria Ammalati dove ci sono dei residenti in protesta per dei tremori sulla strada che si ripercuotono anche nelle loro abitazioni hanno avviato una petizione con raccolta firme e incaricato un avvocato di fiducia per le determinazioni del caso e l'eventuale richiesta dei danni i residenti di via provinciale per Santa Maria Ammalati siamo all'altezza del civico 223 temono il crollo dell'abitazione a causa delle forti sollecitazioni provocate dal passaggio di mezzi pesanti e puntano l'indice contro la SOGI la partecipata comunale che ha recentemente eseguito il lavoro di scavo e posa dei tubi del gas lungo questo tratto stradale opere ultimate due mesi fa e proprio in coincidenza con l'inizio dei forti tremori gli abitanti della zona hanno manifestato le loro preoccupazioni a comando della polizia municipale ed inviato lettere di sollecito all'amministrazione comunale ma nessuno ha effettuato i rilievi tecnici per accertare le reali cause delle oscillazioni probabile si sia verificato uno scavernamento nel sottosolo che ha creato una vasta bolla che al passaggio specie di camion e autobus accentua un pericoloso tremolio delle palazzine è stato il nostro telespettatore a segnalare i tremori in pochi minuti si è formato un gruppetto spontaneo di residenti preoccupati e decisi a dare battaglia essendo molto in alto io noto di più l'ondeggio di questo tremolio diciamo della casa cerchiamo di sensibilizzarle queste signore e comandante sì va bene ha preso appunti l'assessore mi ha detto dice signora io faccio una lettera di fida alla SOGIP il quale ha fatto il lavoro sulla strada poi dopo dice ma se scriviamo dice sì signora scrivete scrivete è questo che allora avete investito un legale per questa faccenda sì ora siamo interessati con un legale che ci sta preparando una segnalazione scritta la sottofermiamo e facciamola raccomandata al comandante dei vigili urbani all'assessore al sindaco assessore e al prefetto ci ha detto l'avvocato i tremori più forti si avvertono con maggiore intensità ai piani alti delle abitazioni spiegano i residenti chiedono all'amministrazione comunale di effettuare dei rilievi tecnici per fugare ogni dubbio sulle reali cause delle oscillazioni e nel caso intervenire con nuovi scavi e il riempimento della parte sotterranea collassata quindi lei c'è la casa tremante eh sì ogni volta che passano camion i famosi bisonde della strada che per evitare la nazionale e evitare eventuali molte preferiscono passare da qua tutti pieni poi fra l'altra cosa la cosa più strana è data da questi mezzi è perché loro passano a periodo quando devono fare uno sbancamento e allora c'è due giorni tre giorni abballamo completamente poi saranno dei giorni magari che non secondo lei cosa è successo quando hanno fatto questo c'era una bolla sotterranea comunque un po' di precarietà solo nel suolo ora con questi passaggi di tubazione per il gas e si è peggiorato ancora perché è un esempio semplicissimo fanno lo scasso tolgono tre camini di terra poi ce ne vanno un camion solo come dicevo qua l'amico nostro prima che giustamente facendo questi lavori di metanizzazione le viscere sono andate fuori le viscere come se fosse uno stomaco mezzo vuoto cioè la cosa è peggiorata tantissimo che prima si c'era qualche tremolio ma molto 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 di meno io credo che sia questa la causa poi non lo so qualcuno deve provvedere qualcuno deve provvedere senza altro perché qui non si può è notte e giorno questa situazione ritorniamo a Catania ma al centro congressuale liciminiere dove è iniziata oggi una due giorni per parlare di salute e prevenzione prevenzione salute parlarne sì ma con metodi alternativi persino attraverso delle rappresentazioni teatrali o con la visita dei giocatori del calcio Catania in qualità di testimonial della buona alimentazione la quarta edizione della Salus Festival Festival Nazionale dell'Educazione alla Salute è tutto questo e tanto altro ancora uno o due giorni che coinvolgerà gli istituti scolastici cittadini ma anche i semplici pazienti del sistema sanitario nazionale che spesso guardano con distacco al mondo clinico tra gli obiettivi vive anche quello di coinvolgere larghi ambiti della popolazione in contesti divulgativi e informativi attinenti all'educazione e all'apprendimento dei corretti comportamenti e stili di vita per questo motivo Salus Festival oltre ai convegni ai dibattiti mettenne a cartellone laboratori attività motorie di conoscenza che diventano quaderni operativi per la formazione non solo dei docenti formatori ma in questo caso anche dei pazienti creiamo questo connubio tra salute e arte cioè utilizziamo anche strumenti quali rappresentazioni teatrali spettacoli cinematografici orchestre musicali cori tutti per promuovere la salute negli ambienti di vita e di lavoro ed in particolare utilizziamo per esempio domani mattina faremo una rappresentazione teatrale dove parleremo delle morti bianche e del dramma quindi degli infortuni mortali e cercheremo di diffondere questo messaggio ai ragazzi delle scuole ma lo diffonderemo non con le solite nostre interventi ma lo faremo tramite una rappresentazione teatrale il Salus Festival è un'occasione per promuovere la prevenzione una prevenzione totale offriamo un'offerta che va incontro ai bambini agli adulti agli anziani con dei movimenti pratici come per esempio dei corsi di danza per gli anziani dei laboratori di cucina dei convegni del materiale didattico degli stand espositivi perché? perché siamo convinti che la cittadinanza deve conoscere quello che si fa per la prevenzione diventare consapevole che ognuno di noi è quello che costruisce la propria salute nel domani quindi messaggi semplici diretti con un coinvolgimento di tutti coloro che possono veramente essere qua presenti ricordando che questa iniziativa quindi è accesso libero speriamo che tantissima gente possa venire e lavorare con noi per costruire la salute all'interno della giornata odierna del Salus Festival l'ASP di Catania ha promosso l'Influ Day 2018 giornata regionale di sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale l'epidemia ancora non è nella sua fase più attiva lo sarà nelle prossime settimane probabilmente avremo un andamento simile a quello dell'anno scorso con un anticipo quindi con un picco immediatamente dopo le festività natalizie quindi non come tradizionalmente in corrispendenza delle festività gattine quindi siamo ancora in tempo diciamo non le notizie che i cittadini percepiscono sul fatto che ci sono i primi solamente non devono indurre i cittadini stessi a non vaccinarsi sempre a Catania il prossimo 20 di dicembre si terrà un convegno sulla prescrizione legale organizzato dall'avvocato penalista Giuseppe Lipera vediamo Requiem per il processo penale il blocco della prescrizione è questo l'interessante tema di un convegno organizzato dall'avvocato Giuseppe Lipera Presidente dell'Associazione Forense Avvocatura e Futuro in programma giovedì prossimo 20 dicembre alle 15.30 nell'Aula delle Adunanze del Palazzo di Giustizia di Catania come afferma il penalista è innegabile che la riforma sulla prescrizione dei reati leda il sacrosanto e inviolabile principio della ragionevole durata del processo sottraendo le fondamentali garanzie costituzionali che tutelano la libertà degli assistiti e di ognuno di noi parla di prescrizione perché l'attuale guardasigilli il ministro della giustizia fra l'altro dicendo che noi siamo degli azzecca garbugli ha proposto questa abrogazione della prescrizione quindi un procedimento penale può durare anche in eterno questa è l'ennesima castroneria che si prospette essere poi una legge ed è venuto il momento secondo me di ribellarci perché in questi anni ne sono state fatte tante dal legislatore io vado indietro parlo di quando si decise di abolire il pretore che poi diventò una sezione distaccata del tribunale abolino le sezioni distaccate del tribunale insomma a furia di abolire 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 c'è giustizia negata in Italia con il nuovo codice di procedura penale che si è discusso tanto all'epoca per esempio si è abolito il giudice istruttore e durante tutta la fase delle indagini preliminari oggi la fase istruttore si chiama così il giudice istruttore e il pubblico ministero il pubblico ministero deve essere accusatore e il giudice istruttore non è possibile ma c'è il GIP ma il GIP interviene ogni tanto su richiesta del PM e il 99% fa quello che dice il PM quanto sono importanti in questione di confronto come quella che le propone allora importante perché noi vogliamo rendere dotto i cittadini di quello che effettivamente sta succedendo importante perché il mio desiderio più grande è quello di riunire l'avvocatura farla scendere in battaglia in lotta perché è venuto il momento di dire assolutamente basta quindi questa grande energia che può essere l'avvocatura riunita deve combattere è un segnale forte che lancia che deve essere però accolto da tutto l'ambiente degli avvocati io spero di sì noi avvocati purtroppo come rilevava lo stesso De Marsico siamo spesso rivali concorrenti invidiosi null'altro per un periodo di tempo mettiamo da parte questi brutti sentimenti e cerchiamo di fare squadra nell'interesse del popolo nell'interesse della gente non certo nell'interesse io ormai sto per andare via la Caritas Diocesana è vicina ai bisognosi posti letto cena e colazione gratuita ad un numero crescente di poveri tra cui anche molti italiani cresce il numero degli italiani in difficoltà che bussano nella porta della Caritas Diocesana 10 Reale per chiedere ospitalità disoccupati in prevalenza ma anche donne alle quali la Caritas ha riservato loro diversi posti letto per la notte per gli ospiti docce un pasto caldo e la colazione si accede alle 19 e sino alle 8 del giorno successivo tutti i posti letto disponibili da mesi vengono occupati con regolarità 10 uomini al piano inferiore e 6 donne al primo piano tra loro anche extracomunitari sistemati in questa struttura di proprietà della Diocesi nel territorio di Eci Sant'Antonio la casa accoglienza è stata ricavata in un'ala del grande edificio che sino a poco tempo fa era una Sprar ovvero uno dei tanti centri disseminati nel Catanese e assegnati ai migranti richiedenti asilo chiuso e trasferiti altrove la Caritas opera in asse con la mensa di San Camillo di Eci Reale ad Aci Sant'Antonio i collaboratori interni vengono affiancati dai tanti volontari il gruppo locale degli scout e i francescani di Carruba diverse iniziative di solidarietà da parte di professionisti che finanziano cene e incontri un noto chef della zona che preferisce mantenere l'anonimato ha organizzato per domenica prossima collandosi tutte le spese un pranzo per circa 40 persone il centro in prevalenza si finanzia con l'Ottopremilla della Chiesa la generosità di molti volontari contribuisce significativamente alle spese quotidiane Massimo Borzi coordinatore della Casa Accoglienza di Aci Sant'Antonio si tratta di accoglienza accoglienza notturna perché è il dormitorio e quindi noi ci occupiamo appunto di accogliere le persone che purtroppo per motivi personali non hanno più un tetto quindi si trovano per strada noi abbiamo un servizio che andiamo in giro per strada anche a raccogliere le situazioni che possiamo trovare in strada ma soprattutto poi ci occupiamo appunto di dargli un posto un posto letto la cosa principale in realtà è una dargli la possibilità di avere una relazione con qualcuno perché poi chi è in strada perde tutti i riferimenti e questa è la cosa più importante quindi un posto qui che oltre ad essere una casa dal punto di vista fisico è sicuramente una casa dal punto di vista ambientale con le persone cioè noi gli offriamo un po' di relazione umana soprattutto poi chiaramente la cena fino alla colazione il direttore della Caritas di Ocesana di Acireale Don Razio Torna Bene impegna parte della sua opera pastorale nella gestione del centro e in futuro confida di aprirne uno analogo ad Acireale Natale è il tempo in cui si diventa più buoni si dice Natale sia più buoni anche se noi cristiani tutti i giorni dobbiamo sperimentare la vicinanza con gli altri sì da un anno già abbiamo questo dormitorio ad Aci Sant'Antonio dove un piccolo segno per muovere le coscienze di coloro che hanno la possibilità di poter mettere degli immobili a disposizione per poter incrementare questi piccoli gesti di accoglienza accogliamo non solo extracomunitari ma anche italiani molti italiani oggi il problema più grande è proprio questo la casa il problema della casa è che gli affitti sono alti il lavoro è poco e quindi non si sa come vivere voi ospitate uomini uomini sono quelli che fanno più richiesta attualmente il dormitorio è al completo dieci posti letto ma è un piccolo segno ma abbiamo anche sei posti disponibili per le donne chiedete anche un sostegno da parte della società civile delle associazioni che operano qui nel territorio il progetto questo di Aci Sant'Antonio si chiama casa ed è un progetto finanziato con l'otto per mille quindi già gli italiani collaborano con sottoscrivendo l'otto per mille alla chiesa cattolica noi quello che chiediamo è sensibilizzare il volontariato i giovani possono dedicare il loro tempo per queste persone Gli studenti di Catania riportano in vita le antiche tradizioni popolari legate al Natale vediamo Gli studenti di Catania restituiscono alla città le sue più antiche tradizioni legate al Natale giovani portatori di cultura popolare riportata nelle strade ma anche a casa in famiglia e così oggi a Catania ritorna la cunzata dell'Econe le antiche edicole votive dei palazzetti storici della città il 13 dicembre Santa Lucia era il giorno in cui il rito aveva inizio qui in piazza Goliarda Sapienza nel quartiere di San Berillo gli abitanti degli antichi palazzi alcuni ancora abitati addobbavano le edicole della sacra famiglia ognuno la sua facendo a gara per realizzare la più bella si metteva un po' di tutto piante saturnali abete o pungitopo per scacciare i maligni dolciumi frutta fresca e secca agrumi poi a distanza di pochi giorni cominciavano le novene i nove giorni che anticipano il Natale iniziavano con un rituale l'accensione del Cero un rito ormai dimenticato ma che gli studenti di sette scuole catanesi hanno oggi recuperato come ci spiegano Costanza e Riccardo alunni di terza media dell'istituto Quirino Maiorana avete adottato questa cona? Sì per ricordare la nostra tradizione e in cosa consiste questa tradizione? Ci vuoi spiegare? Noi mettiamo della frutta tipica ad esempio le clementine oppure le noci frutta secca anche delle piante come il cungitopo e il rosmarino per ricordare appunto la tradizione che serviva a mettere in evidenza la cona le dico la motiva infatti mettiamo nove candele che indicano la novena che precede le feste di Natale cioè il Natale voi ne avete adottata una però ce n'è anche tante altre secondo te la più bella qual è? La nostra ovviamente come vivete a casa voi la tradizione del Natale conoscevi questa antica tradizione? No l'abbiamo scoperta con questo progetto diciamo che abbiamo anche scoperto il significato di tante parole che derivano da questa tradizione per esempio calarsi una cona in dialetto quindi è stata una bella esperienza E a casa tua i tuoi nonni ti raccontano un po'? , non tanto in realtà cioè qualcosa ma niente di che E adesso oggi porterai a casa il racconto di questo? Sì, certo Sì Ma conoscevano i tuoi questa tradizione? No, io l'ho raccontata io E sì perché probabilmente non tutti sapranno che l'espressione dialettale calarsi una cona utilizzata spesso scherzosamente deriva proprio da questa tradizione e si riferiva a chi finite le festività natalizie sottraeva il cibo dalle cone e se ne impadroniva chissà se faranno questa fine i golosi biscotti e dolciumi appesi nella cona che hanno adottato gli alunni dell'istituto comprensivo Giovanni Bosco Ci siamo ispirati agli archi di pane di San Biagio Platani che è un paese dell'agrigentino invece di fare l'arco di pane abbiamo preferito i biscotti perché sono più graditi ai ragazzi li abbiamo anche offerti infatti non abbiamo più niente però i ragazzi hanno offerto biscotti a tutta la comitiva e poi abbiamo fatto la cona proprio l'icona addobbata con la pasta è stata proprio dipinta sul legno e credo che faremo come abbiamo sempre fatto accendere un lumino ogni sera fino alla notte di Natale e dopo questa full immersion nella tradizione ci colleghiamo in diretta con la seduta di Consiglio Comunale che è in corso di svolgimento dal tardo pomeriggio di oggi nella sala consigliare di Palazzo di Città state vedendo in questo momento le immagini che appunto vengono diffuse in diretta e potrete seguire l'intera seduta di Consiglio Comunale sul nostro canale il 622 di appunto REI2 del Digitale Terrestre si parla invece di salute questa settimana all'intervista su REI TV in studio il presidente siciliano dell'associazione italiana Celiachia Giuseppina Costa tra gli argomenti affrontati la riduzione del tetto di spesa dei buoni per i pazienti l'esperienza personale del presidente con 4 diagnosi di Celiachia in famiglia i 40 anni dell'associazione e come è cambiato il mondo del senza glutine appuntamento stasera dunque alle 20 e 20 alle 23 e 30 replica nei prossimi giorni rieccoci in studio non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora dunque si conclude qui la seconda edizione del nostro telegiornale che vi ricordiamo è disponibile all'indirizzo che vedete sovraimpressione reitv.it ma anche sul canale youtube e sulla pagina facebook adesso le previsioni meteo per la giornata di domani a voi tutti buon proseguimento di serata cielo sereno poco nuvoloso sulla Sicilia nella giornata del 14 dicembre 2018 qualche nube nell'entroterra ma complessivamente dovrebbe essere una giornata contraddistinta dal bel tempo i mari saranno poco mossi temperature previste nelle medie stagionali a Catania si andrà da una minima di 11 a una massima di 19 gradi temperature più basse previste ad Enna con 6 gradi di minima mentre a Caltanissetta e Ragusa la colonnina di Mercurio scenderà fino a quota 8 a Caltanissetta